aloe vera direttamente dal mio giardino chiunque lo può coltivare basta che ha un terrazzo e lo può coltivare anche nei vasi e basta che c'è tanto sole perché aloe ama tanto sole e poi una pianta fortissima si chiama pianta della vita in effetti aloe salva la vita cura protegge e guarisce tutto dai tumori fino ai capelli fa bene per intestino per il viso per i denti per i capelli per i piedi per tutto il corpo per il cuore aloe la pianta della vita che salva la vita e ama la vita una delle più forti anzi la pianta più forte che c'è in mondo aloe vera la mia aloe basta usarla tutti i giorni al mattino al sera pomeriggio far frulati fare centrifughe mangiarla con insalata con la frutta da vivo così questo è il gel che si taglia e si mangia si possono fare anche bellissimi liquori con vino rosso miele aloe buonissimi che fanno molto bene e poi si può mangiare tranquillamente così da sola che fa molto bene anzi miglior modo così al naturale il gel del aloe magari anche chi lo può fare con un bicchierino di grappa buona di albicocca o qualsiasi grappa fa benissimo un goccio di grappa con aloe al stomaco vuoto anche dopo il pranzo dopo cena in qualsiasi momento aloe fa benissimo è una crema naturale per il viso è una maschera naturalissima per i capelli li guarisce fa crescere fa benissimo per i capelli per i denti per le gengive per intestino per il cuore per tutto fa ben aloe e questo è il mio aloe aloe vera direttamente del mio giardino dei miei vasi da me tatiana giuric giuric buon natale felicissimo anno nuovo a tutti con aloe da tatiana